Gianna è docente di scuola primaria da decenni, appassionata di sport e di camminate. Nel 150esimo anniversario della nascita della poetessa ucraina, legge un vero e proprio inno alla speranza, a dispetto di ogni condizione, e la poesia che ci farà ascoltare si intitola Contra Spem Spero, la poetessa appunto ucraica, omaggio a un popolo che soffre. La poetessa ucraica è molto nota in patria, tanto che la sua effigie è presente sulla banconota da 200 grivnie, se dico bene. Con le sue opere poetiche fu sostenitrice della dignità e dell'indipendenza culturale del suo paese. Ancora abbiamo modo di gustare l'arte ucraina. Via, pensieri, voi, nubi autunnali, ora è la primavera dorata, forse nell'amarezza, nel pianto, passeranno gli anni della giovinezza? No, voglio ridere attraverso le lacrime, intonare canzoni nel dolore, sperare comunque senza speranze. Voglio vivere, via, pensieri tristi. In un triste campo desolato seminerò fiori variopinti, seminerò fiori nel gelo, verserò su di essi lacrime amare, e per queste lacrime cocenti si dissolverà quella possente crosta di ghiaccio. Forse i fiori cresceranno, e giungerà, anche per me, l'allegra primavera. Trasporterò un pesante masso in cima a un'erta montagna sassosa, e portando questo tremendo fardello intonerò un'allegra canzone. Nella lunga notte buia impenetrabile non chiuderò gli occhi per un attimo. Cercherò la stella polare, la chiara sovrana delle notti buie. Sì, riderò attraverso le lacrime. Intonerò canzoni nel dolore. Spererò comunque senza speranze. Vivrò. Via, pensieri tristi.